Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Prima di iniziare col video, però, datemi un minuto per ringraziare lo sponsor di oggi. Questo video è stato realizzato grazie al supporto di Fisco Zen, che ringrazio. Un servizio che, se si ha intenzione di avviare un'attività o si ha già la partita IVA, può fare la differenza. Dopo le vacanze, è il momento di tornare alle responsabilità e ai progetti che contano davvero. Se stai pensando di avviare un'attività o gestisci già una partita IVA, c'è un servizio che potrebbe fare la differenza. Fisco Zen. Non è la prima volta che ne parliamo e c'è un motivo. Questo servizio può davvero semplificare la tua vita professionale. Fisco Zen è la soluzione ideale per chi desidera gestire la propria partita IVA senza lo stress della burocrazia. Tutto online. Ti mette a disposizione un commercialista dedicato, specializzato nella tua professione, che puoi contattare in qualsiasi momento via chat, email o telefono. Dimentica le attese e i dubbi che possono rallentare il tuo lavoro. Ma non solo, avrai anche la possibilità di utilizzare la dashboard di Fisco Zen che ti permette di avere il pieno controllo delle tue finanze. Potrai emettere fatture elettroniche illimitate con pochi clic, monitorare la previsione delle tasse e dei contributi in tempo reale e verificare le prossime scadenze senza rischiare di dimenticare qualcosa di importante. Grazie al calcolatore aggiornato in tempo reale saprai esattamente quanto mettere da parte per le tasse, evitando spiacevoli sorprese. Se sei agli inizi, avviare o gestire un'attività può sembrare complesso, soprattutto con le informazioni spesso poco chiare disponibili. Con Fisco Zen puoi prenotare una consulenza gratuita e parlare con un consulente che chiarirà ogni tuo dubbio, sia che tu abbia già una partita IVA o stia pensando di aprirla. Prenotando dal link in descrizione avrai diritto a 50 euro di sconto sul primo anno di servizio. Detto ciò, iniziamo immediatamente a parlare del caso di oggi. Il Capo Settentrionale è la provincia più vasta del Sudafrica, infatti copre quasi un terzo della superficie del paese. Ma nonostante l'enorme estensione è anche la provincia meno popolata, abitata da una piccola comunità agricola sparsa tra terre aride e sconfinate, dove il clima secco e le rare piogge rendono il caldo a volte opprimente, come affermano i residenti. Questa regione ha per capoluogo la città di Kimberley, nota alla storia per il suo passato minerario. E a sole un paio di miglia di distanza sorge Grigua Sted, sempre conosciuta per l'estrazione dei diamanti. È una sonnolenta cittadina di campagna, dove tutti si conoscono e la vita scorre lontano dalle rotte turistiche. Ma è diventata il palcoscenico di un crimine che ha sconvolto l'intera nazione. Un caso destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva. Ve ne parlo subito. Sono le 19 del 6 aprile 2012, il venerdì santo di quell'anno, quando un ragazzo di 15 anni si precipita nella stazione di polizia della cittadina, indossa una maglietta e dei pantaloncini ed è ricoperto di sangue. L'adolescente si chiama Don Steenkamp, è arrivato fin lì con il furgoncino del padre e grida esterico, dicendo «Sono tutti morti! Sono tutti morti!» La polizia si adopera per calmarlo. Allora Don riesce a spiegare che sua madre, suo padre e sua sorella sono stati uccisi nella fattoria di famiglia. La giornata stava trascorrendo normalmente, stavano guardando la tv. Poi lui era uscito di casa per raggiungere la stalla, collocata a circa 30 metri di distanza, e cambiare una lampadina. Erano passati circa 45 minuti, intanto lui stava ancora cercando di sostituire la lampadina. quando aveva sentito il rumore di alcuni spari, pur non avendo compreso subito di cosa si trattasse. Solo quando aveva collegato quei rumori ai colpi di un'arma da fuoco, spaventato, si era nascosto sotto una panchina nel tentativo di proteggersi. Messosi attentamente in ascolto, aveva intuito che gli spari provenivano proprio dalla sua casa. Don dice agli agenti che siccome era rimasto paralizzato dal terrore, non è sicuro di quanto tempo avesse trascorso in quel nascondiglio, forse circa 10 minuti, fino a quando non aveva più sentito il fragore dei colpi. A quel punto si era fatto coraggio ed era andato a controllare cosa fosse successo. Una volta entrato in casa, la tragedia si era rivelata ai suoi occhi, per chi aveva trovato i corpi senza vita di suo padre, sua madre e sua sorella. La notizia di questo crimine brutale si diffonde scioccando tutta la comunità, dove gli Stinkamp erano conosciuti per essere uno di quei nuclei familiari dell'apparenza ideale. Tutti i suoi membri sembravano sempre allegri, giocosi, inoltre erano persone benestanti, gestivano 5 fattorie nella regione, ma restavano umili e conducevano una vita modesta. Erano coinvolti negli eventi sportivi locali e molto legati alla chiesa della comunità, dove si dedicavano ai più bisognosi. Insomma, gli Stinkamp erano amati da tutti. Dion, il padre di Don, era stato cresciuto dalla madre e dalle due sorelle maggiori. Tutte le donne della famiglia lo avevano viziato un po', ma avevano anche allevato un uomo dolce e sensibile. All'università Dion aveva studiato matematica e informatica e giocava nella squadra di rugby, portandola spesso alla vittoria. Proprio all'università aveva conosciuto colei che sarebbe diventata sua moglie, Christelle, che invece studiava le strategie della comunicazione. Come Dion, anche lei era cresciuta in una fattoria, quindi entrambi sapevano gestire un'attività agricola. Dopo il matrimonio, Christelle e Dion si erano stabiliti vicino ai parenti di lui, in modo da poter più agevolmente lavorare nella fattoria di famiglia. Christelle era davvero in sintonia con Dion, i due vivevano insieme armoniosamente. Lei amava accogliere gli amici in casa e preparare per loro delle cenette deliziose. Il suo amore per la cucina e la sua devozione per gli ospiti la spingevano a proporre sempre un nuovo menù con cui soddisfare i loro palati. Quanto a Dion, nonostante il suo aspetto lo facesse sembrare un po' rude, perché era alto e parecchio robusto, anche lui era felice di aprire le porte della propria dimora. Come detto, era un uomo dolce che in tanti definivano un gigante buono. Uno che non perdeva quasi mai la pazienza, che difficilmente si nervosiva. Infatti approcciava i problemi con calma. Nel 1996, la coppia aveva messo al mondo il primo figlio, Don, mentre l'anno successivo aveva dato alla luce una bambina, Martella. Dunque, oltre a gestire le cinque fattorie, Dion incentivava i propri figli a praticare tanto sport, tra cui tent pegging. Per chi non lo conoscesse, è uno sport a cavallo di origine antica. Dopo aver lanciato al galoppo il proprio destriero, il partecipante deve cercare di colpire un picchetto conficcato nel terreno tramite la punta di una lancia. Il tent pegging è una delle sole dieci discipline equestri ufficialmente riconosciute dalla Federazione Equestri Internazionale. In ogni caso, i bambini di Dion adoravano questo sport ed erano molto abili nel praticarlo. Christelle aiutava il marito nello svolgimento delle diverse attività agricole e aveva trasformato il suo grande hobby, ovvero cucinare dolci, torte e altre pietanze, in un'ulteriore attività redditizia, vendendola ai vicini e ad altri abitanti della comunità. Quindi gli affari andavano a gonfie vele, la famiglia poteva contare sue entrate diversificate e costanti, ma non spendeva tutti i soldi guadagnati per sé, in quanto aiutava gli indigenti ed elargiva delle donazioni alla parrocchia, frequentata non solo dai genitori, Dion e Christelle, ma anche dai loro figli, Don e Martella. Come detto, all'epoca del triplice delitto, Don ha 15 anni ed è un adolescente comune, è un bravo studente, aiuta la famiglia nelle attività della fattoria, gli piace uscire con gli amici e si diletta nella caccia insieme a suo padre. Martella, invece, che ha 14 anni, quando viene assassinata è descritta come una ragazzina eccezionale. È davvero bella, dolce e intelligente, prende voti eccellenti a scuola, pratica atletica leggera e aiuta anche lei e i genitori nel mandare avanti l'attività di famiglia. I due ragazzi frequentano un collegio che dista circa 320 chilometri dalla fattoria, quindi i genitori li prelevano il venerdì e li riportano a scuola il lunedì successivo, assicurandosi quanto meno che i figli stiano a casa nei fine settimana. I coniugi non si preoccupano del lungo tragitto da percorrere puntualmente, perché ritengono sia fondamentale trascorrere del tempo in famiglia tutti insieme, senza separarsi per intere settimane. Soltanto in occasione degli eventi sportivi indetti dal collegio, Donna e Martella restano fuori nel weekend e Dion e Christelle sono sempre presenti a fare il tifo per loro. Quindi gli Stinkham sono una famiglia unita e ben voluta. Ma allora chi ha ucciso ben tre membri su quattro? La famiglia non era coinvolta in affari pericolosi, quindi la polizia fatica a comprendere cosa fosse successo. È però certa che Dion e Christelle non avevano nemici, non c'era nessun dipendente scontento e pronto a vendicarsi, non avevano debiti da saldare e nemmeno un membro della comunità ha qualcosa di negativo da riferire sulla coppia. Anche se le irruzioni nelle fattorie sono un crimine noto alla zona, normalmente si è trattato di furti, di ladri che svaliggiano le tenute quando i proprietari non sono in casa, ma che di certo non li uccidono. Dunque gli agenti sono nervosi perché non sanno neanche che protocollo seguire. Certamente il primo passo è quello di approfondire la cronologia degli eventi insieme a Don, il quale però rispiega che non aveva assistito a nulla, proprio perché era uscito allo scoperto soltanto dopo il cessare degli spari avvertiti dalla stalla. Una decina di minuti dopo, rientrando in casa, aveva dapprima visto sua sorella che in realtà non era morta, ma in fin di vita. Quando lui si era avvicinato, lei lo aveva afferrato come per rivelargli qualcosa o chiedergli aiuto. Infine gli aveva detto soltanto che gli voleva bene, spirando tra le sue braccia. I suoi genitori, invece, erano già morti. Allora Don era salito a borgo del furgoncino di suo padre e aveva raggiunto il commissariato di polizia. Portava con sé due armi che poco prima aveva notato sull'erba vicino al cancello di casa, temendo che gli assassini tornassero per riprenderle e rivolgerle contro di lui. Infatti, mentre si allontanava, Don aveva sentito altri spari provenire dalla casa. Gli agenti concedono a Don di lavare via il sangue che ha ancora addosso e gli forniscono dei vestiti puliti. Poi si dirigono alla fattoria per iniziare a raccogliere indizi. Don, intanto, riceve il permesso di andare al ristorante dall'altro lato della strada per mangiare qualcosa e cercare di tranquillizzarsi. Siccome la stazione di polizia si trova più o meno al centro della cittadina, il proprietario del ristorante vede Don alla guida che si avvicina man mano. Egli appare disperato. Così, quando il quindicenne entra nel locale, tutti si attivano per supportarlo e gli porgono un bicchiere d'acqua con un po' di zucchero. Notano che Don è in stato di shock, si estranea dalla realtà, ha lo sguardo perso nel vuoto e parla da solo, esclamando, come farò ora senza i miei genitori? Mio padre mi ha insegnato tutto, come vivrò senza di lui? Insomma, Don sembra profondamente traumatizzato. Quando gli agenti arrivano sulla scena del crimine, trovano le luci ancora accese, anche se tutto versa nel silenzio. L'abitazione non presenta finestre rotte né segni di effrazione. Dion è sdraiato a terra, vicino al soggiorno, a pochi passi da Christelle e Martella, che giacciano nei pressi della cucina. Sono tutti morti come Don ha riferito e sembra che il feroce attacco sia avvenuto molto velocemente. Le vittime avevano appena finito di cenare quando sono state colpite. Ci sono ancora un paio di piatti sporchi sul bancore della cucina, la tv è ancora accesa, così come il computer. Quindi sì, per la famiglia quella era una serata normale. Analizzando i corpi, emerge che Martella è la vittima che ha sofferto di più. Infatti è stata aggredita in modo decisamente più violento rispetto ai suoi genitori. Le hanno sparato per quattro volte, un colpo al petto e tre alla testa. Presenta un foro d'entrata del proiettile vicino al naso, un'altra ferita d'arma da fuoco sulla fronte e l'ultima sulla nuca, dove si evidenzia anche una lacerazione. Ma questa non è l'unica, perché si notano ulteriori graffie e contusioni sul braccio sinistro e sulla mano. Si tratta di ferite da difesa, descritte come strazianti e raccapriccianti. Dunque Martella ha lottato per salvarsi la vita. Dion invece presenta tre ferite d'arma da fuoco, rispettivamente alla spalla destra, dietro all'orecchio destro e infine al petto. Christelle, infine, è stata colpita alla spalla, al collo e alla schiena. Martella e Dion riportano anche ferite da corpo contundente alla testa, per cui probabilmente sono stati lì colpiti col calcio della pistola. La polizia ipotizza immediatamente che l'obiettivo principale dell'attacco fosse Martella. Qualcuno voleva scagliarsi contro di lei. La polizia ispeziona la casa e si rende conto che sono ancora presenti parecchi oggetti di valore, che un ipotetico ladro avrebbe stranamente lasciato lì. Pare che non manchi proprio nulla, persino il portafoglio di Dion è in bella vista sul bancone della cucina, così come una borsetta, un cellulare e le chiavi di un veicolo. Controllando la macchina della famiglia, infatti, gli agenti individuano un altro paio di chiavi già inserite nel quadro di accensione, ipotizzando che fosse stato uno degli steam camp a scordarle lì. Gli agenti trovano anche una somma di denaro, circa 4.000 dollari, che anche il potenziale rapinatore avrebbe potuto recuperare facilmente. Quindi, è chiaro, non si è trattato di un furto finito male. L'assassino non aveva intenzione di derubare la famiglia. Sul tronco di un albero che si trova a metà strada tra la casa e il fienile e sul terreno circostante, gli agenti notano delle tracce di sangue che si protraggono fino alla porta d'ingresso dell'abitazione. Ipotizzano quindi che una delle vittime, dopo essere stata colpita, avesse tentato di scappare, ma era stata trascinata nuovamente in casa. La polizia in questo momento ha molte domande prive di risposta, così raccoglie ogni elemento rilevante e torna indietro per dialogare con Don sugli eventi del pomeriggio. Il ragazzo però si trova ancora nel ristorante, circondato da qualche familiare che è sopraggiunto e finalmente è riuscito a calmarsi. Siccome gli inquirenti non vogliono stancare ulteriormente Don, eseguono la procedura per rilasciarlo e riconvocarlo il giorno seguente. Gli scattano alcune foto, raccolgono un campione di sangue ormai secco che lui ha ancora addosso, effettuano il test per i residui di polvere da sparo che dà esito negativo. Il giorno dopo quando Don torna alla stazione di polizia, gli agenti stavolta gli chiedono di ripercorrere la giornata precedente ai delitti. Forse era successo qualcosa fuori dall'ordinario? Giovedì 5 aprile 2012 la famiglia Stinkamp stava sbrigando dei lavori alla fattoria, poi Dion e Christelle erano andati da alcuni amici per regalare loro dei prodotti da forno, mentre Martella era rimasta da sola nella fattoria perché anche Don si era allontanato. Don spiega che se sua sorella avesse visto qualcosa di strano glielo avrebbe riferito, eppure lui non aveva notato nulla di anomalo. Gli omicidi, come detto, sono avvenuti il venerdì santo, il 6 aprile. Dunque, quella mattina presto gli Stinkamp erano andati in chiesa, avevano seguito la messa, poi erano tornati a casa e avevano pranzato. Nel pomeriggio Don era andato a caccia e aveva usato la pistola di suo padre come faceva sempre. Tutti in famiglia avevano facile accesso alla cassaforte in cui le armi erano conservate. Quando era tornato dalla sua battuta di caccia, Don era andato a cavallo insieme a sua sorella Martella. Dopo il giro avevano lavato i due cavalli ed erano rincasati. La madre stava lavorando al computer e il padre stava guardando la televisione. Così Don e sua sorella si erano seduti sul divano accanto a lui. Cristella aveva chiesto al figlio di riporre la chiavetta USB dove aveva appena caricato un software nella cassaforte della camera da letto. Alla guida della squadra investigativa incaricata del caso è stato assegnato il capo provinciale della divisione criminalità organizzata, il colonnello Dick De Wall che vanta più di 30 anni di esperienza ed è considerato la persona giusta per affrontare una vicenda così complessa. Il colonnello ha ascoltato la versione dei fatti di Don e gli chiede di tornare con lui nella fattoria per ripercorrere il momento dell'attacco ai suoi familiari. Porta con sé un timer per valutare la tempistica necessaria all'assassino per commettere il triplice delitto e darsi alla fuga. Quando nel pomeriggio cominciava a fare buio la famiglia Steinkamp aveva l'abitudine di portare gli animali della fattoria vicino a un fiume per farli passeggiare e dissetare poi tutti rientravano. Questo era accaduto anche il 6 aprile Dion si era rimesso a guardare la tv insieme a Don e Martella mentre Cristella aveva ripreso a lavorare al computer. Poi avevano cenato infine Don era andato a cambiare la lampadina nella stalla. Aveva sentito il rumore degli spari e si era nascosto sotto una panchina fino a quando erano cessati. Dopodiché era tornato in casa trovando i corpi senza vita di sua madre e suo padre riversi sul pavimento. Invece Martella era ancora viva allora Don si era avvicinato a lei e la sorellina gli aveva afferrato la maglietta fino a strapparla poi era morta. Don era andato in camera per cambiarsi la maglietta dato che era una sensazione davvero spiacevole avere addosso tutto quel sangue della sorella. Quindi il ragazzino non aveva raggiunto la stazione di polizia con la maglietta indossata quando erano avvenuti gli omicidi. In ogni caso Don accompagna il colonnello e gli agenti in camera sua recupera la maglietta che Martella gli aveva strappato e gliela mostra ripercorrendo la sua versione dei fatti. Dopo essersi cambiato era tornato di corsa nella stalla e aveva aspettato qualche minuto prima di salire sul forgoncino di suo padre notando quelle armi a terra appena fuori dall'abitazione. Gli agenti sanno già che le armi in questione erano di suo padre quindi l'assassino li aveva prese dalla cassaforte che era stata ritrovata aperta. Gli agenti inoltre notano che Don ha dei graffi sul collo allora gli chiedono come se li fosse procurati. Il ragazzino confessa che un paio d'ore prima del triplice delitto aveva litigato con Martella anche se non ricorda il motivo della discussione. Le voci intanto iniziano a diffondersi e la comunità formula varie teorie su ciò che potrebbe essere accaduto quel giorno. Qualcuno crede che Dion fosse impazzito e che avesse sterminato l'intera famiglia. Martella riportava le ferite più gravi e dato che era venerdì santo la gente ipotizza che gli omicidi avessero qualcosa a che fare con un culto satanico. In poco tempo il caso diventa un fenomeno mediatico quindi la tranquilla e remota cittadina viene invasa dai giornalisti che stravolgono la vita della comunità. La polizia non rivela dettagli sulla vicenda lasciando che l'agente esponga le proprie teorie. Intanto si lavora sulla dinamica del delitto. Chi era stato colpito prima? Secondo gli agenti la prima vittima è stata Christelle che era rivolta di schiena mentre lavorava al pc quindi non aveva potuto vedere chi le aveva sparato. La seconda vittima era stata Martella con lei che aveva cercato di scappare nascondendosi dietro l'albero tra la casa e il fienile. Ecco perché c'erano tracce di sangue sul tronco e ai piedi dell'albero oltre che sulla porta d'ingresso dell'abitazione. La maglietta che la ragazzina indossava era stata assegnata dall'erba sulla parte della schiena quindi probabilmente il colpevole era riuscito a trovarla e l'aveva trascinata nuovamente in casa. Dion era stato colpito per terzo e si crede che avesse tentato di correre verso il suo aggressore per cercare di fermarlo prima di essere ancora colpito alla testa. Gli spari si sono succeduti molto rapidamente. Il sangue di martella è stato trovato in diversi punti della casa vicino al corpo di entrambi i genitori e accanto al telefono di casa dove giaceva il suo cadavere perché probabilmente lei stava provando a chiamare la polizia. Dopo aver sparato i primi colpi con un arrivo coltella l'assassino aveva recuperato un fucile e aveva affreddato i tre membri della famiglia. Gli agenti scoprono pure un'altra cosa che però decidono di non condividere con il pubblico. La ragazzina aveva subito violenza intima tra le 12 e le 24 ore precedenti alla sua morte. Riporta infatti una ferita nell'area pelvica che aveva riaperto una ferita ancora più vecchia. Questo vuol dire che martella era stata assalita intimamente almeno due volte nella sua vita. La teoria degli agenti secondo cui martella era l'obiettivo principale del massacro diventa sempre più solida ma non trovano tracce di DNA altrui sul suo corpo. Mentre la polizia continua a non svelare nulla alla comunità le teorie dei residenti si diffondono e loro continuano a sospettare che l'assassino sia proprio l'unico membro sopravvissuto della famiglia Don. Al contrario gli amici i parenti e alcuni colleghi sportivi di Don sono convinti che questa teoria sia assurda perché il ragazzo non può essere coinvolto nel terribile crimine. La sua era una famiglia unita e amorevole andavano tutti d'accordo anche secondo le autorità. L'allenatore di tent pegging di Don si offre di diventare il suo tutore e mentre le chiacchiere sul quindicenne si fanno sempre più fitte lui partecipa a una gara col cavallo di sua sorella per omaggiarla. Cioè nonostante non tutti coloro che conoscono personalmente Don confidano nella sua innocenza. Per esempio il personale della scuola gli chiede di prendersi una pausa deve evitare di presentarsi a lezione fino a quando il caso del triplice omicidio non sarà risolto. Tuttavia siccome la polizia non dubita apertamente del ragazzo questo divieto ha breve durata e Don torna in classe. La polizia ha raccolto molte prove che bisogna analizzare per cui avanza lentamente nel cammino di risoluzione del caso. Purtroppo non tutto può essere analizzato al meglio. Sul luogo del delitto c'erano una giochetta verde di Dion e un tappeto coperto di sangue ma entrambi il giorno dopo gli omicidi sono stati bruciati dagli addetti delle pulizie dei coniugi. Gli altri parenti della famiglia Stinkamp decidono di assumere un investigatore privato ma il suo operato non porterà dei risultati. C'è poi la segnalazione di alcuni lavoratori della zona i quali avevano visto un Audi bianca con uno specchietto rotto sfrecciare a tutta velocità intorno alla fattoria ipotizzando al tempo che fosse avvenuto un incidente stradale. Nonostante la squadra investigativa per lustri più volte il luogo del delitto e i dintorni non trova i frammenti di vetro dello specchietto e questa pista si rivela un vicolo cieco. Poi ci sono altre cose che la polizia non riesce proprio a spiegarsi. La famiglia aveva quattro cani sono stati tutti trovati vivi ma stranamente Don non ha mai detto di averli sentiti abbaiare eppure quando avvengono delle intrusioni nelle fattorie di solito i cani si agitano oppure purtroppo vengono avvelenati per evitare che facciano baccano. La polizia quindi intuisce che l'assassino chiunque fosse conosceva l'esatta disposizione della casa o era familiare agli animali. Nel frattempo si svolgono i funerali delle vittime della famiglia Steenkamp. Le foto riportate in alcuni documentari mostrano quanto le persone presenti siano scosse da questa tragedia. I compagni di classe di Martella sono in lacrime tutta la comunità dà l'ultimo saluto alla famiglia con estrema tristezza per chi ha perso dei membri ritenuti importanti. Don siede in prima fila accanto ai suoi nonni e abbraccia tutti quelli che si avvicinano per porgergli le condoglianze. Il ragazzo ha solo 15 anni e nel giro di pochi minuti ha perso i genitori e la sorella nel più traumatico dei modi. La sua vita è irrimediabilmente cambiata. La sorella di Dion quindi la zia del ragazzo per stemperare un po' la cupa atmosfera della giornata appena fuori dalla chiesa scherza dicendo che Don era il preferito di Christelle mentre Martella era la cocca del papà. In realtà pare che all'interno della famiglia non ci fosse alcuna differenza in termini di affetto entrambi i genitori non riservavano un trattamento privilegiato a uno dei loro due figli. I compagni di classe di Martella le rendono omaggio ed è chiaro dai video che hanno girato che sono profondamente addolorati. Un'altra persona che sta cercando di vederci chiaro in questo caso è Joe Scholes il responsabile della sicurezza rurale dell'Unione Agricola. Solitamente lui collabora con la polizia quando si verificano gli attacchi nelle fattorie e la polizia lo conosce bene ecco perché la notte degli omicidi gli era stato permesso di entrare in casa per osservare e studiare la scena del crimine. Joe Scholes afferma che il viso di Martella era gonfio e livido tanto che non sembrava nemmeno più una persona. L'aggressione era stata terribilmente violenta e Joe dice di non aver mai visto niente di simile. Ma torniamo un attimo alle armi che donna aveva trovato per terra appena fuori casa. Se erano state usate per commettere triplice delitto allora il ragazzo come faceva a sentire ancora il rumore degli spari visto che ormai aveva preso le armi con sé per poi allontanarsi? La polizia ha un forte dubbio al riguardo considerando che nella cassaforte non mancavano altre pistole o fucili. Inoltre sembrerebbe che nessun veicolo fosse entrato o uscito dalla fattoria quindi il colpevole sarebbe arrivato a piedi? È improbabile dato che l'area della fattoria è molto estesa. Ma allora se l'assassino era in auto com'è possibile che non avesse attirato l'attenzione di nessuno? Il rumore del motore di una macchina in funzione è chiaramente udibile. E ancora le autorità credono che Martella fosse fuggita dall'abitazione per nascondersi dietro l'albero a pochi passi dal fienile. Quindi Don come aveva potuto non sentirla visto che era così vicina? Lui ha raccontato di aver cercato di salvare la sua sorellina ma allora perché sembrava infastidito quando parlava del suo sangue? In quelle terribili circostanze cambiarsi la maglietta sporca avrebbe dovuto essere la sua ultima preoccupazione. Non c'era tempo da perdere con la casa sotto attacco e un assassino a piede libero lì dentro o nei pressi no? Così vengono eseguiti dei test sui residui di polvere da sparo presenti su due delle magliette di Don recuperate dalla casa che danno esito positivo. Questo si somma all'assenza di segni di effrazione nella proprietà e alla mancanza di tracce di DNA non appartenente ai membri della famiglia. Per di più come già sappiamo i quattro cani degli Stinkamp non avrebbero reagito all'intrusione e niente era stato rubato ed ecco che la lente di ingrandimento si posa di nuovo sull'unico sopravvissuto della famiglia il 15enne Don è possibile che il ragazzino entrato nella stazione di polizia in stato di shock sia in realtà colui che ha commesso il crimine e se sì spinto da quale movente la violenza intima esercitata su Martella potrebbe rappresentarlo. Forse Don aveva assalito sua sorella e poi sterminato la propria famiglia per nascondere il fatto dato che lei minacciava di denunciarlo. Inoltre in termini di tempistiche è cruciale un breve messaggio con il link di una località in cui sarebbero andati in vacanza che Christelle aveva mandato a Martella a cui si è risaliti grazie all'analisi dei tabulati telefonici. Non le aveva scritto nulla di rilevante per le indagini ma il messaggio è stato inviato alle 18.34 e ciò significa che gli omicidi sono avvenuti dopo quest'ora. Ma Don era già alla stazione di polizia alle 18.50. Questo vuol dire che il triplice delitto è stato portato a termine nel giro di 16 minuti e ciò non corrisponde al resoconto fornito da Don in un lasso così breve di tempo non avrebbe mai potuto fare tutte le cose di cui ha parlato. Se poi aveva sentito gli spari mentre si allontanava per raggiungere la stazione di polizia significava che l'assassino era ancora in casa. Allora com'è possibile che non si fossero incrociati in così poco tempo a disposizione? Poteva succedere mentre il ragazzo rientrava nell'abitazione o mentre si dirigeva verso il furgoncino di suo padre? Poi la polizia riflette sul fatto che Don per decidere di salire in camera propria e cambiarsi la maglietta doveva sentirsi piuttosto tranquillo come se non ci fosse nessun pericolo nell'abitazione nulla da temere e anche l'analisi degli schizzi del sangue di martella finiti addosso al fratello non combacia con la versione del ragazzino. Secondo gli esperti lei era davvero troppo devole per strattonargli la maglietta dopo che le avevano sparato quindi gliel'aveva strappata prima per cercare di difendersi mentre lui l'aggrediva intimamente. La polizia conclude che Don era riuscito a uccidere tutti in pochi minuti aveva sparato a ognuno dei suoi familiari poi si era cambiato velocemente aveva ripreso con sé le armi del delitto che aveva guidato fino alla stazione di polizia. Intanto vengono visionati dei messaggi che lui si era scambiato con uno dei suoi amici il quale a proposito del massacro gli chiede chi sono i sospettati? Don gli risponde sono io l'unico sospettato l'amico ribatte non ci sono altre impronte digitali? Don spiega no solo le mie l'amico allora domanda non ci sono prove che portano a qualcun altro? Don conclude no non troveranno nessun altro. A questo punto delle indagini anche la sorella di Dion sospetta di sua nipote ma dice che siccome le azioni che avrebbe compiuto sono surreali spera ancora che vi sia un errore che la polizia abbia sbagliato. Il 21 agosto 2012 il colonnello Dick DeWall si presenta alla scuola di Don con le manette perché gli investigatori incaricati del caso hanno escluso ogni altra linea di indagine. Ritengono di essere stati il più scrupolosi possibile prima di arrivare alla conclusione che è Don il colpevole. Anche loro non riuscivano a credere che un ragazzino potesse commettere un delitto tanto atroce uccidendo brutalmente suo padre sua madre e sua sorella ma dopo quattro mesi di indagini test e perizie non emerge nessun'altra conclusione. Don Steenkamp ora sedicenne viene arrestato nell'ufficio del preside e accompagnato fuori dalla scuola fino alla macchina della polizia. Tutti gli studenti lo fissano ma Don guarda solo davanti a sé. Non sembra arrabbiato né turbato la sua è un'espressione vuota. Mentre il colonnello guida verso la stazione la radio trasmette la notizia che un sedicenne è stato arrestato per il triplice omicidio della famiglia Steenkamp. Dick DeWall sbircia con discrezione attraverso lo specchietto retrovisore per studiare la reazione di Don e nota che lui fa un leggero sorriso prima di tornare a fissare il vuoto. Don viene accusato di tre capi di imputazione per omicidio e un capo di imputazione per aver ostacolato il corpo della giustizia. In seguito viene anche accusato di aver assalito intimamente sua sorella Martella ma lui si dichiara non colpevole di tutti e cinque le accuse. Poi all'inizio di settembre gli viene concesso il rilascio su cauzione per permettergli di continuare a frequentare la scuola. I compagni di classe affermano che Don era sempre stato un ragazzo tranquillo ma dopo gli omicidi della sua famiglia è cambiato. Adesso è più loquace e sicuro di sé al punto da diventare arrogante ama essere sotto i riflettori per via delle sue orribili azioni soprattutto se sono le ragazze a prestargli attenzione. Tuttavia nonostante la libertà su cauzione Don è obbligata ad abbandonare la scuola perché i genitori degli altri alunni lo guardano con sospetto e presto si accumulano così tante lamentele sulla sua presenza che il preside gli chiede di andarsene. Anche se nessuno sa con certezza che Don è colpevole perché la polizia non rilascia mai dichiarazioni al pubblico la gente ha intuito la verità. Uno psicologo durante questo periodo valuta Don e conclude che il ragazzo non ha alle spalle altri episodi di aggressività e non esibisce alcun sintomo riconducibile a un disturbo comportamentale o a problemi di salute mentale. Dunque nessuno avrebbe potuto prevedere e prevenire questi tragici omicidi. Un altro psicologo aggiunge che Don dialogando con lui ha mostrato di avere un buon carattere è stato rispettoso e risulta incline a coltivare buoni rapporti con le persone. Quindi non ci sono evidenti segnali d'allarme. Lo psicologo spiega che nella maggior parte dei casi in cui i ragazzini uccidono i loro parenti è perché sono vittime di abusi da anni. Alcune fonti riportano che qualche volta il dolce di On sapeva essere piuttosto severo ma del resto lo sono tanti altri genitori e niente suggerisce che in quella casa si verificassero episodi di abuso. Lo stesso Don sottolinea con enfasi a un poliziotto che i suoi genitori non erano mai stati violenti nei suoi confronti. Affinché il processo possa fare il suo corso è necessario pagare le spese legali così l'alta corte del capo settentrionale autorizza il rilascio di 500.000 rand ovvero circa 60.000 dollari come parte dell'eredità di Don. I fondi però vengono sbloccati grazie all'ultimo testamento del nonno di Don poiché la corte non approva alcun finanziamento proveniente dalle tenute di Dion e Christelle. In Sudafrica il sistema della giuria nei tribunali è stato abolito nel 1969 quindi spetta il giudice del capo settentrionale il presidente della divisione Franz Cogmo decidere se Don sia colpevole o innocente. Dopo l'arresto un'ordinanza del tribunale aveva impedito che il nome di Don venisse reso pubblico. Le telecamere sono ammesse nell'aula ed è per questo che sono disponibili alcune riprese del processo su internet ma il volto del giovane imputato non viene mai mostrato. In ogni caso il risultato delle indagini sembra messo in discussione quando la polizia ottiene una presunta confessione da parte di una donna. È già in custodia per possesso di esplosivi e munizioni. Afferma che gli omicidi della famiglia Steenkamp fanno parte di un piano per attaccare gli agricoltori bianchi nel tentativo di instillare paura e incitare all'odio razziale. La polizia però smentisce e afferma che non sussiste una sola prova a supporto di questa storia. L'accusa allo stesso modo ritiene di aver aggiunto risultati solidi intende chiamare alla sbarra 100 testimoni presenta tutti i fatti e le motivazioni per cui Don va processato comprese le tempistiche degli spostamenti del ragazzo. Don aveva esercitato violenza su sua sorella Martella e lei aveva minacciato di raccontarlo ai loro genitori. Don aveva sparato a tutti i membri della famiglia per impedire che scoprissero la verità. Inoltre il fatto che Martella avesse litigato con Don prima della sua morte supporta la teoria secondo cui gli omicidi sono collegati all'aggressione da lei subita. Il giudice Franz Cogmo e la polizia sono sicuri che il giovane che ha molestato Martella è anche il suo assassino. Lei era stata aggredita tra le 12 le 24 ore prima di essere uccisa e questo è un elemento chiave. Non è pensabile che un intruso avesse esercitato violenza su di lei per poi tornare a uccidere la ragazza e i suoi genitori il giorno dopo. Le foto delle parti intime della povera Martella vengono mostrate in aula e il medico legale che aveva individuato i segni di violenza testimonia il processo. L'esperto spiega che la ragazzina era stata percata con vemenza e afferma che i genitali di Martella erano guariti in fretta grazie al buon flusso sanguigno della vittima. Don durante questa testimonianza borbotta e a un certo punto sembra pure arrossire. Un altro possibile movente che potrebbe spiegare le azioni di Don è l'eredità. Se dopo aver ucciso tutta la sua famiglia il ragazzo l'avesse fatta franca avrebbe ereditato 23 milioni di rande che equivalgono a 1,7 milioni di dollari e avrebbe ricevuto anche la parte di Martella. Non a caso il giorno dopo gli omicidi una delle prime cose che Don aveva chiesto a uno psicologo era come la sua eredità sarebbe stata gestita. Anche quando Don viene beccato a mentire sembra imperturbabile. Un giornalista dice che lui e altri colleghi hanno cercato in continuazione di far trapelare qualche forma di emozione in lui senza alcun successo. Invece nei confronti del giudice l'imputato tot al più si mostra arrogante. Alcuni giorni dopo i membri della squadra investigativa i legali coinvolti nel caso e gli esperti forensi si recano alla fattoria con il giudice. Vengono individuati i punti in cui si trovano i corpi delle vittime e presumibilmente le armi. Allora Franz Cogmo commenta dicendo che l'assassino ha agito come il più stupido invasore delle fattorie del Sud America. Per uccidere la sua famiglia era corso verso l'uscita ma aveva lasciato cadere le armi del delitto ed era tornato dentro in tutta fretta per salire al piano di sopra e cambiarsi la maglia. La squadra di difesa dal canto suo insiste dicendo che si trattava dell'opera di un intruso non di Don. Secondo i suoi legali l'unica teoria che l'accusa può davvero avanzare per delineare il movente di Don è la violenza ai danni di martella. Anzi dubitano che fosse avvenuta anche questa nonostante due dottori lo avessero confermato durante le loro testimonianze. La difesa sottolinea che non è emersa alcuna traccia di seme ma l'accusa spiega che siccome erano passate dalle 12 alle 24 ore questa mancanza non rappresenta una prova contraria. Sono le analisi dei medici che dimostrano che la violenza è avvenuta e come? Dopo diverse settimane il processo volge al termine e il giudice emette il verdetto. Don Steenkamp viene ritenuto colpevole degli omicidi premeditati di Dion Christelle e Martella e anche della violenza intima esercitata su sua sorella eppure di aver ostacolato il corso della giustizia. Il giudice afferma di essere convinto che quella non era la prima volta in cui Don assaliva Martella come aveva riscontrato anche il medico legale quando aveva parlato di almeno due ferite. Nelle sue dichiarazioni finali Franz Cogmo dice sono soddisfatto l'imputato ha commesso tutti i reati elencati nell'elenco di imputazione lo Stato infatti lo ha dimostrato non solo al di là di ogni ragionevole dubbio ma oltre qualsiasi ombra di dubbio. Gli omicidi sono stati pianificati ed eseguiti con l'intento di uccidere. A mio avviso il minore imputato il trottatore voleva avere un rapporto intimo con Martella. Quando lei lo ha rifiutato lui l'ha assalita e uccisa così lei non avrebbe potuto denunciarlo. I suoi genitori dovevano essere eliminati. Martella non avrebbe avuto motivo di informare qualcuno di questa attività intima se fosse esistita una relazione d'amore consensuale tra lei e l'imputato. La verità è che lui è l'artefice della propria sfortuna è lui che ha lanciato l'allarme alla polizia e ha gridato al lupo. In occasione della denuncia della condanna il giudice dice a Don che deve affrontare le conseguenze delle sue azioni. Due giorni dopo il ragazzo compie 18 anni così l'ordine che impediva di rilasciare il suo nome al pubblico viene revocato. Un esperto legale afferma che il sistema giudiziario sudafricano non ha mai emesso condanni a vita o superiori a 20 anni per i minorenni. Spetta la discrezione del giudice stabilire la pena ed ecco che per la prima violenza esercitata a sua sorella Don viene condannato a 12 anni. Per ognuno dei tre omicidi commessi Martella Dion e Christelle Don si aggiudica una pena di 20 anni quindi 60 in totale. Infine per aver ostacolato il corso della giustizia Don viene condannato a 4 anni. Poiché le pene vanno scontate contemporaneamente la condanna effettiva è quella che comporta la pena più lunga quindi in tutto Don Stinkamp viene condannato a 20 anni di prigione. Mentre viene pronunciato il verdetto Don non mostra alcuna reazione abbraccia alcuni parenti prima di essere portato via. La legge dei servizi penitenziari prevede che Don debba scontare almeno metà pena in carcere prima di presentare domanda per la libertà vigilata dunque potrebbe giovare di tale opportunità proprio quest'anno nel 2024. Don però durante la detenzione è stato indagato per aver infranto delle regole e questo dovrebbe pesare sulla richiesta della libertà condizionale. Alcuni avvocati sostengono che se Don non fosse stato minorenne all'epoca dei delitti il giudice avrebbe optato per una sentenza più dura punendolo con l'ergastolo. Don ha comunque presentato un ricorso ma ha dovuto saldare la sua prima fattura legale relativa al processo e trovare una squadra che se ne occupasse. Le opinioni delle persone comuni e quelle della sua famiglia sono fortemente contrastanti. Solana Betty dice di aver confidato nell'innocenza del nipote per lungo tempo ma le prove schiaccianti contro di lui le avevano fatta ricredere. Ha accettato la sua colpevolezza ed è anche riuscita a perdonarlo. Spera che Don ottenga tutto l'aiuto psichiatrico e psicologico necessario affinché un giorno possa dare un contributo positivo alla società. Mariana la sorella di Dion quindi zia di Don afferma di aver dovuto semplicemente accettare la realtà dei fatti suo nipote è colpevole. I vicini e altri membri della comunità come Joe Scolz sono certi che Don è colpevole e dicono che dovrebbe ammettere ciò che ha fatto. Questo caso senza precedenti lascia un'impronta incancellabile sul capo settentrionale dominando i media per anni interi. Lo scrittore Jax Steenkamp che non ha alcuna relazione con la famiglia della vittima di questo caso ha seguito il processo e scritto un libro bestseller incentrato sulla vicenda. Nel 2019 da questo libro viene tratto un film. Don non menziona mai gli omicidi ma nega sempre di aver avuto un ruolo nella loro attuazione. Probabilmente ciò che è accaduto davvero in quella fattoria il 6 aprile 2012 non verrà mai pienamente alla luce. Il giudice che si è occupato di questo caso in seguito va in pensione anche se viene nominato giudice ispettore della direzione per le indagini criminali prioritarie mentre il colonnello Dick DeWall che aveva svolto un ruolo incisivo nelle indagini nel 2021 viene a mancare dopo una breve malattia. Uno psichiatra studioso del caso afferma che con il tempo e ulteriori valutazioni in Don potrebbe manifestarsi un disturbo della personalità o un problema di salute mentale in grado di fornire una versione più chiara della sua mente in quell'oscuro momento ma questo potrebbe anche non accadere mai. Arriviamo alle conclusioni credo che la famiglia Steenkamp fosse come veniva descritta dalla comunità amorevole e ben voluta di certo nessuno avrebbe mai immaginato che Don stesse esercitando violenza sulla sorellina minore in base a molte fonti consultate tanti prevenuti avevano puntato il dito contro le persone nere della cittadina invece come è emerso non solo è stato un bianco a commettere il delitto ma persino un membro della stessa famiglia Steenkamp gli altri parenti di Don hanno scelto di sostenerlo forse credono che al momento del triplice delitto lui fosse andato fuori di testa ma è sospetto che Don non avesse mai manifestato un comportamento psicotico un disturbo di natura mentale quindi secondo me il quindicenne sapeva perfettamente cosa stava facendo quando ha scelto di uccidere tutta la sua famiglia approfondendo il caso ho avuto l'impressione che fin dall'inizio Don avesse ricevuto da parte della polizia il trattamento che viene ingiustamente riservato ai ricchi e ai privilegiati e lui ha aggiovato di questa morbidezza d'azione anche in tribunale trovo che la sua pena sia esageratamente leggera solo vent'anni per aver ucciso il padre la madre e la sorella è pur vero che nelle prigioni africane Don non avrà vita facile ma tra sette anni lui potrebbe tornare già in libertà è questa la scelta giusta? in definitiva resta difficile per me comprendere come si possa arrivare a spezzare con tale brutalità quei legami di sangue che dovrebbero essere i più sacri e inviolabili forse non troveremo mai una risposta ma una cosa è certa la tragedia la tragedia di Griek Wastad ci ricorda che a volte il pericolo più grande si nasconde proprio dove dovrebbe germogliare amore ringrazio nuovamente Fisco Zen che ha supportato la realizzazione di questo video se hai dubbi o vuoi semplificare la gestione della tua partita IVA ti invito a chiedere la tua prima consulenza gratuita cliccando sul link in descrizione e non dimenticare c'è già un cupone inserito per ottenere 50 euro di sconto sul primo anno di servizio io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti